La certosa di San Lorenzo a Padula sarà interessata da importanti interventi di restauro. Vale oltre 5,8 milioni di euro la procedura di gara pubblicata da Invitalia per l'affidamento dei lavori. Un restyling necessario e tanto auspicato per il gioiello del ballo di Diano, un patrimonio dalle potenzialità non del tutto espresse finora e che dopo gli interventi a cui sarà sottoposto potrebbe vivere un nuovo splendore. Naturalmente accompagnando l'opera di restauro con politiche di rilancio serie e coerenti. Nello specifico si interverrà per il rifacimento delle coperture, il consolidamento del cornicione del chiostro grande che ne permetterà la fruizione, il restauro dello scalone monumentale, delle cantine della chiesa principale, l'adeguamento degli impianti, il recupero del parco monumentale della Certosa, un muro di cinta, patrimonio botanico e cappella della Maddalena. Sono previsti lavori per abbattere le barriere architettoniche e potenziare i servizi all'interno dell'istituto monumentale. La cosiddetta passeggiata coperta sarà rifunzionalizzata, saranno messi a punto percorsi multimediali e dispositivi virtuali a supporto della visita, sarà realizzato un sito web destinato alla fruizione e alla valorizzazione del monumento, oltre a interventi di realtà aumentata. È previsto poi il restauro del patrimonio librario, dei mobili e degli arredi conservati all'interno della stessa Certosa.